A1. Buonasera dalla redazione RAI dell'Emilia Romagna. Da domani tutta la regione diventa zona rossa nel tentativo di piegare la curva dei contagi che resta ancora alta. Aumenta la pressione sugli ospedali. I servizi di Davide Maggiore e Francesco Rossi. L'Emilia Romagna passa in... Abbiamo padri da mandare a casa da bambini piccoli, abbiamo insomma mariti, mogli, oltre ricoverati anche insieme. È un carico emotivo molto molto importante. Stefano Aldani, medico 31enne, è arrivato nelle corsie della pneumologia all'ospedale Morgagni di Forlì quando già dalla Cina circolavano le prime notizie sul coronavirus. In prima linea dunque fin dall'inizio della pandemia. È una malattia che ci mette poco ad arrivare, precipita in fretta, tiene il paziente in un tunnel di gravità di malattia fisso per 10-15 giorni di file e poi pian pianino di cominciare a salire. Qui ci vuole tantissimo sforzo anche proprio... Bisogna motivare tanto, cioè infatti ogni tanto più che il medico mi sento un motivatore perché nel senso bisogna proprio stare lì e dire tieni duro, tieni duro, tieni duro. La crescita dei contagi anche in Romagna, 800 nuovi casi al giorno nelle ultime settimane, ha nuovamente riempito i detti degli ospedali. Oggi abbiamo 670 ricoverati in tutta la Romagna con pazienti Covid e circa 45-46 in terapia intensiva. La terapia intensiva è meno critica perché abbiamo ancora posti disponibili sull'attività, come dire, Covid ordinaria, malattie infettive, medicina interna, subintensive, siamo abbastanza al limite. Il virus colpisce sempre di più i giovani? I pazienti ovvero 80 sono davvero pochi. Adesso ritroviamo pazienti molto più giovani e che però arrivano con insufficienze respiratorie importanti. Sono pazienti con più forze, senza malattie, quindi hanno un organismo che reagisce molto, però sono ricoveri comunque molto pesanti, molto lunghi. Quando tornano a casa sono spesso un po' trasfigurati dalla malattia. Torniamo alle 23.20, grazie, buona serata.